Nel balletto del rinnovo dei vertici delle società partecipate dal Comune, i disagi che ricadono sulla popolazione crescono ogni giorno. Si inserisce su questa scorta Stefano Albano, segretario del Partito Democratico Aquilano e consigliere comunale. Albano si fa portavoce delle due denunce che arrivano dai sindacati. La prima riguarda l'azienda di trasporti Ama e la seconda il centro turistico del Gran Sasso. Nel primo caso è stato proclamato uno sciopero per fortissimi ritardi sugli addempimenti necessari a procedere alla fusione con l'azienda regionale TUA. Mentre per il centro turistico del Gran Sasso si evidenzia quanto la gestione commissariale, piuttosto che essere stato un elemento di stimolo ed efficienza, si sia rivelata fuori era di inefficienze, sia per quanto riguarda la programmazione sia i rapporti con i lavoratori. Albano poi sottolinea come questi problemi siano connessi all'immobilismo dell'amministrazione, incapace, dopo un anno, di scegliere i vertici delle partecipate per questioni di rivalità politiche e posizionamenti, sottolinea Albano. Un ennesimo gioco a rinvio che sta creando confusione e impossibilità per le società partecipate di decidere e programmare sul lungo periodo. Immobilismo e incapacità che si pagano con i disagi le occasioni perse, ma soprattutto che ricadono sulle tasche e sulle spalle dei cittadini.